Roma, Cinema Aquila, terza edizione del festival Visioni fuori raccordo dedicato alle periferie. Ne parliamo con Luca Ricciardi, direttore artistico, e Giacomo Ravesi, coordinatore artistico. Luca, comincio subito con una domanda a te. Le periferie che cambiano, le periferie che avete cercato di raccontare, non solo quelle geografiche, arrivate per esempio a proiettare un film come L'Ora d'Amore che parla di una periferia che è più psicologica. Come sono cambiate le periferie in questi tre anni di festival e come le avete raccontate e come le raccontate quest'anno? Beh, intanto le periferie in questi tre anni forse non sono cambiate moltissimo, forse hanno un arco di tempo per le loro trasformazioni più ampio, però sicuramente è cambiato il nostro modo di leggere le periferie. E noi siamo partiti nel 2006 con un'idea di periferia un po' forse stereotipata o datata, che comunque esiste e che ha bisogno anche questa di emergere, che era la periferia dell'emarginazione, del conflitto sociale, la periferia del degrado. E lentamente abbiamo cominciato a capire che intanto periferia non è solo un luogo geografico, ma anche un luogo esistenziale. Quindi abbiamo cominciato ad aprirci a storie che raccontano magari la precarietà economica e sociale, la solitudine, l'esclusione. E poi abbiamo cominciato a capire anche che le periferie sono in fondo il luogo dove vivono la maggior parte degli abitanti di una città, non per forza sono degradate, non per forza sono mancanti dei servizi primari, ma comunque sono luoghi che meritano una grande attenzione perché sono forse già il presente delle città e sicuramente il futuro. E quindi cerchiamo anche di includere in questa visione delle periferie quelle parti di città consolidata che però non fanno più riferimento a un centro cittadino, ma che in qualche modo si autoconsumano al loro interno, con questi nuovi centri che sono i centri commerciali, i grandi centri commerciali, dove in qualche modo si ripete in piccolo, in chiave consumistica, quella che è la forma della città tradizionale, con il centro commerciale, con il suo corso dove passeggiare il sabato e la domenica, le sue piazzette dove incontrarsi e fare relazioni sociali. Ovviamente tutto sotto il controllo del consumo e del commercio. Una domanda invece per Giacomo che cura la parte artistica. Allora ci sono due sezioni, una dedicata alle periferie romane, una dedicata alle periferie italiane, c'è il fuori concorso, e poi c'è la retrospettiva che quest'anno è dedicata alle case e alle donne. So che tu hai curato personalmente questa parte, per cui ti chiederei intanto come hai scelto questo tema e come hai deciso di svilupparlo. Sì, la retrospettiva si intitola Una casa tutta per sé, le donne, la lotta per la casa e altre conquiste. E nasce come proprio un omaggio pensato alle donne, e in particolar modo a un certo tipo di donna, non tanto la donna, diciamo, intellettuale del movimento femminista, che in qualche modo aveva sempre lottato contro la casa, che è chiaramente l'emblema della oppressione patriarcale, ma invece la donna sottoproletaria o proletaria, che aveva invece sempre rivendicato la casa, il luogo dell'abitazione domestica, come un proprio diritto, un proprio luogo anche di rappresentazione. E quindi attraversiamo questa idea, che in effetti è molto presente nella storia del cinema italiano, che rimane come infatti un immaginario consolidato dal neorealismo, in qualche modo, per poi passare anche nei movimenti di lotta degli anni settanta e di militanza. E quindi attraversiamo questi racconti con opere di finzione, opere sperimentali anche, delle videodocumentazioni, e anche arriviamo ai videodocumentari di creazione contemporanei. Quindi verrà presentato l'On. Angelina, chiaramente come emblema di questi approcci, di Zampa del 1947, e poi ci concentreremo sull'opera di Anna Laiole e Guido Lombardi, che sono dei registi che vengono dalle esperienze dell'underground, ma che poi sono stati anche i primi ad utilizzare il videotape, in qualche modo, come nuova avanguardia, e il mezzo elettronico, quindi come nuova avanguardia anche stilistica e tecnica, per poi arrivare all'ultimo giorno, a fare un confronto tra due donne di generazioni distanti, come Cecilia Mangini, di cui proietteremo nostra casa quotidiana a essere donne, che ha lavorato un po' in tutta la sua carriera alla rappresentazione del ruolo della donna nella società italiana, soprattutto agli indomani del boom economico, mettendola a confronto invece con un film che è stato anche presentato alla mostra del cinema di Venezia, che si intitola Ragazze e la vita a trema, della documentarista Paola San Giovanni, che infatti attraverso le testimonianze di alcune donne riflette sulle rivendicazioni del movimento femminista oggi, chiaramente. Allora, il festival parte giovedì 26 novembre e va avanti fino a domenica 29, il programma, tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.fuoriraccordo.it, su questo sito però c'è anche un'altra cosa da quest'anno, che è un osservatorio stabile sulle periferie, giusto Luca? Sì, questa è un'idea a cui teniamo e a cui lavoriamo da molto, grazie ai film che abbiamo raccolto nelle tre edizioni di questo festival, siamo riusciti finalmente a creare un archivio online, un archivio video, di tutti i film selezionati nelle tre edizioni scorse. E quindi, cliccando nella sezione archivio, c'è una scheda, c'è un piccolo motore di ricerca, si può accedere anche facendo delle ricerche tematiche, inserendo per esempio il nome di un quartiere o di una periferia che ci interessa di più, si può accedere a tutte le opere passate in concorso nelle tre edizioni del festival, e sarà un lavoro che poi continueremo anche per le successive edizioni. Questo ci permette in qualche modo, finito il festival, di continuare a dare visibilità, distribuzione, promozione alle opere che passano da noi. Allora io vi ricordo ancora l'appuntamento al Cinema Aquila in zona Pigneto a Roma, dal 26 al 29. Grazie mille a Luca Ricciardi e a Giacomo Ravesi. Volete fare un saluto agli ascoltatori di Antract? Un saluto a questa trasmissione molto interessante e un saluto a Deborah che la realizza con grande impegno. Antract! Grazie! Grazie! Grazie.